L'Ittere Apostolice L'Ittere Apostolice L'Ittere Apostolice Evangelice testes, usque ad vite donum locatum amore oblatum, beatorum nomine imposterum appellentur, e orunque festum, primorum, die nona et ultimi, die quinta et vicesima mesis augusti, in locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen, datum Romea, bussantum Petrum, dietricesimo mensis novembris, anno domini bis millesimo quinto decimo, pontificatus nostri terzio, Franciscus Papa. Applaus Grazie a tutti.